Il Comitato regionale del volontariato del Friuli Venezia Giulia si è insediato il 9 giugno 2014 ed è nato quale strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di settore agli interventi della Regione e rappresenta nei rapporti con le istituzioni gli organismi, come afferma la legge regionale 23 del 2012 che lo ha istituito. Nove le persone che lo compongono, cinque volontari eletti dall'Assemblea delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, una delle quali ne è il Presidente, l'Assessore regionale del volontariato e Direttore del Servizio Volontariato Solidarietà e Immigrazione della Regione, i comuni con il Lanci e le province con lupi. Le organizzazioni di volontariato sono chiamate nell'Assemblea regionale annuale 2017 in calendario per il 10 giugno a eleggere i propri rappresentanti per il prossimo triennio e ad affittare i nuovi eletti e le linee programmatiche da perseguire nel nuovo mandato. Per questo si sono aperti a livello territoriale tavoli di confronto e di raccolta di idee e contributi per riflettere sul ruolo attuale del volontariato e le prospettive future. A parlare per la prima volta in sesta commissione consigliare di quanto svolto sino ad oggi è stato l'attuale Presidente del Comitato regionale, Giorgio Volpe, accompagnato dalla Vice Presidente Domiziana Vanzini e da Alessio Buodo Marco Iob, che è anche Presidente del Centro Servizi di Volontariato, e David Cernic. In precedenza, ha ramentato Volpe, si trattava di un comitato paritetico presieduto dal Presidente della Regione e un suo delegato. Solo dopo il 2012 si è ottenuto che la presidenza sia posta direttamente nelle mani dei volontari e delle loro circa 1.400 organizzazioni riconosciute. Volpe ha quindi parlato della proclamazione del comitato basata sul documento Linee di indirizzo per il volontariato del Friuli Venezia Giulia 2014-2017, approvato dall'Assemblea delle Organizzazioni di Volontariato nel 2014. Si è trattato di adempimenti previsti dalle normative, quali l'espressione di proposte e pareri, ha spiegato il relatore. Oltre all'implementazione del sito internet del comitato stesso, ha collaborato nell'organizzazione della XVI Assemblea regionale sulle organizzazioni di volontariato e del tavolo Giovani Scuola Volontariato, ma soprattutto ha riformulato il Centro Servizi di Volontariato e 18 coordinamenti territoriali d'ambito, la cui sfida è solo all'inizio, per farsi riconoscere come anello della programmazione territoriale dei piani di zona. Il comitato è poi invitato permanente al dirittivo del forum regionale del terzo settore del Friuli Venezia Giulia con lo scopo di condividere informazioni e riflessioni e raccontare le attività dei due organismi e questo gli permetterà tra l'altro di partecipare al tavolo di confronto permanente con la giunta regionale quando tratterrà il tema dell'accoglienza e integrazione di profughi e migranti. Due rappresentanti del comitato siedono poi nel Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo ed il Paternariato internazionale, oltre che ad altri comitati e commissioni regionali. Tra le proposte per il futuro, Volpe ha segnalato per il comitato la necessità di un maggiore coinvolgimento nella preparazione delle leggi di settore, più fondi a sostegno delle sue attività, anche non legate a progetti straordinari. Una legge quadro regionale sulla partecipazione e la sussidiarietà, in grado di dare unitarietà al rapporto tra regione e società civile, organizzata non solo volontariato, una verifica a tre anni della sua istituzione dei regolamenti attraverso un percorso condiviso e di confronto, aiutare il comitato a servizi di volontariato a risparmiare risorse utili al sostegno diretto al volontariato, individuando sedi per tutti gli sportelli di Udine e Trieste in strutture di enti locali. In apertura di seduta la Commissione ha espresso parere favorevole e unanime al regolamento disposto dalla giunta concernente la concessione di contributi ai professionisti per la loro formazione nei primi tre anni di attività. Si è espressa su due progetti di legge, all'attenzione della terza Commissione consigliare, entrambi inerenti i servizi per la prima infanzia e la politica vaccinale regionale, con due pareri favorevoli a maggioranza.